Come lavorare sulla capacità per il suo attivo di la produzione di un'azienda, io c'è un fatto che è convinto a votare Stefano Penanza, perché nel presentato il primo mondo di legge, qua ci si è scolgendo un spionato per la mente di un medico, non conoscevo un numero così, insomma, portato a capacità di un'unità di presenza, di assenita, di assenita, però questi consigli di tutti che le sede hanno messo una cosa, qual è la situazione per un candidato di sicurezza, oggi che le sede del provvizio di centrosi d'invito, la famosa legge del baratto, c'è non più la maggioranza del presidente del Consiglio a cui essere l'assessore, a Stavano Penanza Paglosa, non è un presidente per essere contestati con la maggioranza, quindi che significa questa? Giustamente, quando si diceva il consiglio di Mare Gliaro, la politica non c'è più, e allora io ricordo le parole di un sindaco, di un altro, che diceva, ma è senza la mia maggioranza del senso, ma non c'è del spazio a chi viene a ritrattarmi in cambio a Gliaro. Grazie consiglio di Mare Gliaro. Gustavo, mi piace il consiglio di Mare Gliaro, ma io la mia conistrazione. Sì, ma no. 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 Io mi metteranno il consigliere Pellada, che ha fatto un vero che ho fatto le mani, ma lo dico io consigliere Terracchino. Sì, sì. Io non mi parlo per il consiglio comunale. Il problema è di chi oggi dice che sto all'opposizione, ma molto con la maggioranza, è l'interesse della città. Ma io vorrei un'intervista a questi grandissimi utori della scienza politica, per cui ci spiegano realmente qual è l'interesse della città. L'ennesima certificazione dell'intervista a qualcuno che oggi protesta tra l'altro, perché ha perduto il suo lavoro. E questo, forse, si è notato, da te come l'ha detto, tu hai detto che non hai gli cittadini, oggi la tua città, forse ti è un città. Stai un anno, il presidente del consiglio, il padre di la biancina, il città del città del città, e sui grandi hanno una città del città, e nel città del città del città del città del città. Quindi, che cos'è, la città del città di una cambiata, consiglio del proprio, che è stato un'intervista di un'intervista di un'intervista, e alla mente non vuole l'intervista, anche se, di me, di contattolo con lui, al primo padre di vende, addiglierato di accorgere questa nazionanza. Grazie. Quindi, ripetiamo la notazione, ma che è stata una parola, ma che sono una parola, sono una parola, non la non c'è più. Allora, come una parola, si è... e si fa in formato. E' stato un'intervista di un'intervista di un'intervista di un'intervista di un'intervista. E' una parola qui, e' un gruppo maricano, con tutta la stima che ci serve, e' tutto. Però qui è in valutazione politica, e' ben diversa, sono da un rapporto umano, e quindi non posso accettare, sui voti, sono del PD, ma giusto per un fatto di atto, un fatto di collocazione, ed e' tutti i piccolirameni di rispetto e sui gruppi di dunque, ma si credono, in piedi, i titoleri di un'intervista di un судno. Grazie. Sono certo l'affeggiamento post-instituzionale che è assunto di questi due consigli, di questo nuovo, ma questa è una cosa che ci interessa e ci appassiona anche un po'. Mi fa piacere le nomi delle relazioni che sposti tornando, ci sia stato un applauso con piaciuto del comandante o del comandante, questo è la decisione, perché, come dire, con il comandante noi abbiamo condiviso la battaglia che ha preso una ferma, una posizione, un minuto nell'amministrazione. E quindi, in questo momento, io non solo scrivo, diciamo, ovviamente, un modo che non può essere a favore di sé, ma è evidente che la dichiarazione del comandante o del comandante o del comandante o del comandante o del comandante, è evidente che la dichiarazione del comandante o del comandante o del comandante o del comandante. è evidente che la dichiarazione del comandante o 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 del comandante. è evidente che la dichiarazione del comandante o 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 del comandante. è evidente che la dichiarazione del comandante o 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 del comandante. è evidente che la dichiarazione del comandante o 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 del comandante. è evidente che la dichiarazione del comandante o 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 del comandante. è evidente che la dichiarazione del comandante o 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 del comand la maggioranza moderante a colpi di questa città, ricordiamo che io riuscino atto per atto di modale tutto che potrebbe essere la città, senza i dati. Se voi il sindaco volete ricattato e ricattato, che è un problema del sindaco, ma quando ci riguarda noi, dai vicini, a chi è questa moderanza non magari hanno mai i voti, i voti, di quante soluzioni erano. Scusami, come dei voti a me solo per fare la mese? Eh, no adesso non. Non per noi, non per noi, per noi, per noi. Ma non per noi, per noi. Ma non per questo nuovo. Però non ha fatto impatto, perché, diciamo, prende impatto, per noi, senza cosa ne volevo fare. Perché io, perché io ho un lavoro proprio che dico, 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 e anche quell'associato che si può aiutare, forse come mi chiedono la direzione, le cose di casa, io mi piace anche fare delle battute, non si può fare anche questo, io faccio un appello a un gruppo di tappi, caro consigliere Camuscio, c'era un bellissimo film che ho visto più volte, salvate il soltanto, caro consigliere, caro consigliere, caro consigliere, consigliere Camuscio, c'è cosa, scelta di salvare questi consigli e comprate le portati a Proibers, mi salta molto andata, quindi ti chiedo, salvati da questo momento difficile, grazie. Consigliere, consigliere Camuscio, è una passata, 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 di, io vi aggare un attimo di attenzione, grazie. Allora, io non sono pensato dei tecnici, ho semplicemente evitato la mia caricatura da stavolo, che ritengo che una caricatura deve essere forse autorevole e deve avere intorno a sé il sostegno delle forze politiche. Poi ho visto che la mia caricatura era stata rossa perché era impossibile che al primo e al punto tutto sarebbero usciti 17 punti necessari. E mi dispiace averlo saputo così, dai propri voi, che una forza politica che mi ha sostenuto nella fine della votazione aveva cambiato pensiero. Ecco, ho dovuto dire, in prevedere, di portare il campo dalla mia incontrante presenza. Perché? Perché, diciamo che avevo parlato anche con qualche amico della maggioranza, cercando di far compogliare la sua bianca di testa a qualche modo. E quindi noi abbiamo avuto a buttare un'altra parte in Francia, e se si possi riuscire quella, diciamo, disponibilità di qualche amico che pure penso di avere nell'altro di farolgerà. A quella io, io ritengo di essere una persona per la testa sempre. E la faccio solo a cuore da un mio odio dice che, infatti, una persona ha avuto il mio sospetto, e poi questo sospetto e al senso di una persona che ci sono nazionata per spiegare questo non è stato, però io chiedo solo a questa ragionanza, che ancora è il tempo, di presentare una candidatura, e di qualche parte non è questa, ma quindi io, il suo giocino, non sarei. La persona che non è delegatata per spiegare il consiglio di mettere, una persona che ha partecipato nel libro di una ragionanza, e la competizione personale ha sostenuto cazzo, ha vinto questa ragionanza, ha vinto un po' della ragionanza, e te lo vanno a spiegare, questo no, perché non è una dichiarazione di questo. Allora, per me, proprio per me è una cessione, c'è una cessione, c'è una cessione, c'è una cessione, perché è una persona diretta come una ragionanza, che ha sostenuto il schien, coerente e corretta, che ha fatto praticamente del lato come funzionale di questa ragionanza, come funzionale di questa ragionanza, come funzionale di questa ragionanza, per me è un candidato accettabile, come funzionale, e io, come funzionale di questa ragionanza, non è un po' di questo, 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 è un po attività delle cose a parte del corso, io ho detto delle cose, il detto che hanno un risulto, che abbiano motivato pubblicamente, abbiano un senso, la candidatura di senso è quanto si riguarda dove sono, quindi a loro poterlo. Ok, quindi abbiamo andato a noi, adesso passiamo al voto, il consigliere di inizio.